Cosa stai facendo contro l'omofobia qua in questa città? Contro l'omofobia stiamo facendo tante cose. Innanzitutto i Gay Pride sono sempre più partecipati nella nostra città. Quest'anno faremo una grande manifestazione, il Gay Pride del Mediterraneo, quindi sempre di più iniziative culturali, dibattiti, penso anche a iniziative giuridiche e amministrative interessanti come il registro dell'Unione Civile, penso ai tavoli contro l'omofobia e la transfobia, penso all'impulso importante che stiamo dando nel tavolo per la parità di genere e le pari opportunità, penso anche ai centri di ascolto, alle iniziative con le scuole, penso anche alle costituzioni di parti civili che stiamo mettendo in campo contro l'omofobia e il femminicidio. Rispetto al problema dei parcheggiatori abusivi, in particolare di quelli che si mettono fuori ai luoghi del dolore, fuori agli ospedali e che lucrano sulla necessità di una persona di urgentemente lasciare la macchina, cosa pensa di fare il Sindaco? Ma un Sindaco deve spingere affinché chi è preposto alla prevenzione dei reati e alla repressione dei reati agisca, quindi quello non è il compito del Sindaco, è il compito degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria qualora ci sia un reato, e ovviamente l'input che io do è quello sempre di più di evitare che le persone possano essere disturbate o peggio ancora taglieggiate, o comunque trovarsi in una condizione di estrema difficoltà. Devo dire che la Polizia Municipale tra i tanti impegni sta facendo anche molte sanzioni, molte multe, purtroppo il fenomeno è diffuso, lo è sempre stato nella nostra città, è difficile che si possa eliminare, però va contenuto, e soprattutto va contenuto nei luoghi del dolore, è assurdo che una persona che debba andare in un ospedale si debba preoccupare anche di tutto questo, quindi penso che sicuramente ci vuole un impegno più forte da parte di tutte le forze dell'ordine su questo tema. Signor Sindaco, quando è che lei pensa un po' alla plebe di Napoli e non ai possidenti? Il Sindaco di Napoli pensa a tutti i cittadini, se proprio la devo dire tutta cerco di pensare anche di più a chi sta in difficoltà e a più bisogno, io mi sento il Sindaco di tutti i napoletani, mi sento il Sindaco dei detenuti, vado nelle carceri, sono andato a Poggio Reale, a Secondigliano, a Nisida, a Pozzuoli, cerco di essere più vicino alle persone che hanno bisogno e mi piacerebbe fare sempre di più per chi ha bisogno, è chiaro il fatto, di questo me ne dolgo, di non poter avere le risorse economiche che vorrei, mi mette certe volte nell'impossibilità di aiutare anche materialmente a chi ha il bisogno concreto di mangiare, di avere un tetto dove dormire, però gli sforzi che stiamo mettendo in campo sono tanti nei confronti dei senza fissa di mura, stiamo aumentando i luoghi in cui poterli ospitare, così come vogliamo fare di più con i centri di accoglienza in generale, penso al lavoro che sta facendo sull'albergo dei poveri, in tante municipalità, il lavoro di accoglienza che questa amministrazione sta cercando di fare nei confronti delle persone più deboli. Grazie a tutti.